Per modificare le impostazioni generali della tua struttura, clicca a sinistra sull'hamburger menu e vai su Impostazioni. Clicca su Indirizzo per modificare i dati della struttura o per eliminarla. Vai su Generale per modificare le impostazioni generali come gli orari di check-in e check-out e le opzioni relative al pagamento. Puoi selezionare il pagamento in struttura durante il soggiorno. Richiede un deposito o un acconto. Richiede un deposito o un acconto impostando una percentuale o richiedere il pagamento dell'intero importo. Puoi inoltre prevedere una tassa di soggiorno o dei costi aggiuntivi, come ad esempio un costo aggiuntivo per un servizio obbligatorio, quale la pulizia della stanza. Clicca su Salva per salvare i cambiamenti. Puoi inoltre prevedere 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 i cambiamenti.